Bentornati! Oggi vi racconto la storia e i problemi legati all'incipit più famoso della storia della Musica Classica insieme a... Ovvero parliamo naturalmente dell'inizio della quinta di Beethoven in do minore, il famosissimo... Quali sono i problemi di questo pezzo? Il problema è che questo inizio regolarmente dà una serie di problemi al direttore che deve dirigerla e che quando va, soprattutto con un'orchestra nuova, a suonare questo pezzo per la prima volta, a dirige questo pezzo per la prima volta, spesso ai volentieri è raro che l'orchestra attacchi al primo attacco, ha bisogno di un po' di tentativi e in certi casi il direttore deve spiegare bene la sua gestualità e spiegare bene quello che vuole. Io ricordo la prima volta che l'ho diretto, è stato un disastro, credo di averlo fatto 15 volte prima di fermarmi, spiegare all'orchestra, guardate, è così, 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 così e poi come Dio ha voluto ne siamo venuti a capo. Però io ero convinto, ricordo la prima volta, prima di tante anni fa, che sarei partito e l'orchestra, come per magia, avrebbe attaccato, cosa che regolarmente non è successa. Dice ma tu sei scarso. Può darsi. Però sta di fatto che questo è un pezzo che se non adeguatamente provato dà problemi anche a dei signori direttori. E la cosa che è più particolare è che tutto sommato è un pezzo sulla carta abbastanza semplice da spiegare e ora ve lo spiego. Dopodiché vedremo nel corso del video tutta una serie di incipit fatte dai più famosi direttori della storia e vedremo come l'hanno fatto loro. Allora, dal punto di vista tecnico di scuola è un incipit molto semplice. è so, 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 mi, coronato, fa, 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 re, battuta intera più battuta coronata. Per cui se la mia scansione è questa qua, diciamo che questa è la scansione della mia battuta, sarà so, 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 mi, fa, 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 re, questo sulla carta. Poi il mio tempo può essere più mosso, più lento. Vedremo, insomma, che tra le esecuzioni che ascolteremo saranno diverse come velocità. Però non stiamo discutendo di quanto Beethoven lo voleva Allegro, magari parleremo un'altra volta. Stiamo discutendo squisitamente di tecnica. Per cui generalmente per sicurezza si danno due battute vuote, quindi si fa un, due, so, sol, mi, fa, 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 re, chiusa. Con un'orchestra che già si conosce, che già conosce il proprio gesto, con cui si ha una certa dimestichezza, oppure dopo un numero adeguato di prove, si può anche dare una sola battuta e fare un, so, sol, mi, fa, 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 re, m. Questa è la teoria. Quindi per cui te lo studiare, tu insegnante di direzione dell'orchestra te lo spiega. Tu vai a casa, funziona, lo fai allo specchio e allo specchio è fantastico. Dopodiché vai davanti all'orchestra e la cosa non funziona. Ora vediamo perché può non funzionare. In realtà in questa maniera in cui l'ho fatto, molto, molto scolastico e molto, molto accademica, dovrebbe funzionare. Semmai l'orchestra potrebbe non capire bene la velocità e quindi questo potrebbe dare un po' di scollamento tra le fine degli archi. Ma insomma, un'oltre che il tempo, la scansione dei timidi è chiara, con un attacco al genere l'orchestra dovrebbe attaccare. Vediamo però come lo fanno variati direttori. Ti mette presente un'altra cosa che, sempre da scuola, sempre da scolastica, sempre da accademia, il fa fa fare ha una battuta, poi una seconda battuta coronata, quindi una battuta a tempo, intera, diciamo così, nel senso completa, e una battuta coronata. A scuola ti segno che queste due battute vanno segnalate. Ne batterai quindi una a tempo e la seconda ti fermerai per la corona, cioè fa fa fare e poi qui la corona. Vediamo, ripeto, questa è la teoria. Vedremo in realtà che molti direttori questa seconda battuta non la battono, o se preferite non battono la prima, nel senso fanno uniscola due battute come se fosse un'unica battuta coronata. Questa cosa, ripeto, a livello di scuola non si fa, a livello di insegnamento teorico, a livello di un'orchestra professionale, di un bravo direttore, si fa questo e altro, insomma. Ma andiamo a vedere come la risolvono i direttori. Allora, partiamo a vedere come la fa Clive, vi faccio notare una cosa, che lui prima di dare l'attacco con la mano sinistra darà la scansione ritmica per ricordare bene all'orchestra il tempo. Guardate la mano sinistra e vi accorgerete che dà il tempo all'orchestra prima dell'attacco. Eccoci, qui è quello che ci interessa. Quindi avete visto che l'attacco che dà è abbastanza scolastico, già fa pa 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 pa, chiude poi pa 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 pa, e dà anche la seconda battuta. Quindi un attacco estremamente scolastico. E a mio modo di intendere, se un direttore della bravura, del talento, dell'esperienza di Clive la dava così veramente tipo ABC di corso di direzione d'orchestra, secondo me è perché neanche un grande come lui voleva correre dei rischi. Ora passiamo a Karajan. Io lo dico sempre, Karajan è stato il più grande direttore orchestra secondo me del secolo scorso, ho fatto un video apposta, se non l'avete visto andatevelo a vedere, e tuttavia se uno sta studiando direzione è un direttore che non deve neanche guardare, perché dirigeva in una maniera che poteva permettersi solo lui, con un'orchestra strepitosa che conosceva a menadito tutto quello che lui voleva e che sapeva anche cosa voleva dire se si grattava al naso, per cui, come dice in questi casi, non fatelo a casa, non date mai un attacco della quinta di Beethoven come farà adesso Karajan, perché lui lo poteva fare, lo poteva essere attaccata, ma nel vostro caso non funzionerà. Vediamolo. Allora, lui che cosa ha fatto? Lui ha dato un attacco giù, dentro, fregandosene completamente della seconda battuta, e poi ha dato un altro attacco giù, dentro, giù, da qui però non si percepisce la scansione ritmica, la pulsione ritmica, per cui dare un attacco il genere, se sei Karajan e davanti Berliner fallo, se no evitalo, perché probabilmente l'orchestra non attaccherà e non capirà quello che vuoi. Andiamo a Sijiozawa. Se siete abbonati al canale, sapete che ho fatto su di lui un video dove facciamo la reaction a tutta l'esecuzione della quinta di Beethoven, di cui qui vedremo l'attacco. Se non siete abbonati al canale, vi dovete accontentare di questo estratto dell'attacco. Vediamolo. Allora, lui quello che fa, lui se ne frega della seconda battuta da battere, e va bene, non lo può fare. Quello che fa però è molto pericoloso, perché lui dà un attacco giusto da cui si percepisce la scansione ritmica, ma poi fa un movimento molto confuso che io scommetto qualche volete, che adesso funziona, non l'avranno provata mille volte, ma potrei scommettere qualcosa che la prima volta che l'hanno fatta le prove non è andata senza problemi. Ve lo faccio rivedere. Lui dà l'attacco e poi fa un movimento scomposto. Qui dà l'attacco ed è chiaro. Vedete? Ecco, quel movimento scomposto dopo è molto molto pericoloso, per cui come anche nel caso di Karajan, non fatelo a casa. Vediamo Barenboim. Come la fa? Allora, innanzitutto avete sentito un tempo sensibilmente più lento, però ripeto, qui non stiamo discutendo del veloce, del meno veloce, non ha importanza. Ve lo faccio rivedere, vi faccio notare che la prima frase è abbastanza chiara. La seconda... Anche questa devi averla provata bene, perché non è altrettanto chiara come la prima. Riguardiamolo. Chiarissimo. La seconda... Dopodiché, ripeto, provando si può fare anche così e l'orchestra parte. E' solo questione di quante prove si sono fatte. Andiamo a Tilleman, quindi direttore di perfetta tradizione germanica che attacca ancora sull'applauso. E avete visto che lui, che per certi versi è erede della tradizione tedesca, della tradizione di Karyan, dà un attacco molto simile a quello che ha dato Karyan. Quindi, un solo attacco giù, senza la seconda battuta e dopo la corona un altro attacco giù, fregandosene completamente delle altre... delle altre... delle altre battute, cioè di battere le altre battute e come faceva anche Karyan, dirige con gli occhi chiusi, almeno questa prima parte. Karyan dirigeva spesso tutto alla sinfonia con gli occhi chiusi. Lui, quantomeno fa questo inizio. Rivediamolo. Eccolo che arriva e come vi ho detto, dà un attacco ancora su di applausi. In fanatico quindi l'applausi attacca. Guardate, tutto giù, lo rifermo. Due. Quindi non dà le battute da segnare, ferma, poi attacca. Bene, andiamo avanti e vediamo Simon Rattel, anzi Sir Simon Rattel, gli inglesi ci tengono e forse hanno ragione. E qui ragazzi, vi assicuro che con questo attacco la prima volta che l'ha fatto l'orchestra è nata non per i fatti suoi. Questo ve lo posso assicurare sulla testa di mio figlio perché è un attacco che devi poterti permettere di dare ma che l'orchestra deve capire. Non dimentichiamo mai una cosa, certo il grande direttore è grande direttore, Rattel è sicuramente nel novero dei grandi direttori, ma devi anche avere una grande orchestra che capisce e devi anche sapere una cosa che spesso non si dice che in molti attacchi il direttore parte ma spesso e volentieri è la spalla il primo violino che dà il vero attacco che l'orchestra guarda. Noi qui non sappiamo cosa sta guardando l'orchestra perché giustamente la camera è sul direttore ma rivediamo un'altra volta e vi assicuro che questo attacco è forse di quelli che mi hanno visto fino ad ora il più rischioso da fare soprattutto se è la vostra prima volta che fate la quinta. E qui in qualche maniera però ha dato la seconda battuta e poi ha chiuso la corona. Andiamo avanti. Vediamo Myung Woon Chung come la fa. Ecco qui avete allora stile cara Ian Sill e Tilleman quindi un unico attacco giù senza battere la seconda battuta e idem con patate per la seconda frase quindi attacco giù senza battere le altre le altre battute. Già pericoloso vi faccio notare però che la seconda frase non è perfetta la parte dell'orchestra riascoltiamola. la seconda la seconda non è perfetta e poi il resto. Andiamo in Italia a Gianandrea Roseda vediamo come la fa. Ecco vedete lo ribadisco per la centoquattresima volta facendo sufficienti prove si può fare qualunque cosa. quello che è rischioso è sono tutti i movimenti dopo il primo tutti i movimenti che si fanno come abbiamo visto che faceva Zawa come fa anche lui che servono non servono all'orchestra per l'insieme per andare insieme anzi semmai sono pericoloso li servono come dire per il carattere nervoso da dare al da dare a questo a questo incipit però anche così vi assicuro che è rischioso rivediamola molto veloce ma ripeto non è del tempo che parliamo qui oggi restiamo in Italia anche se insomma toscanini negli anni americani toscanini toscanini già anziano vediamo come fa l'attacco della quinta ecco il rischio di questo attacco è soprattutto la seconda frase allora il problema della prima frase è che non dà una grande preparazione e quindi non è chiarissimo in questo senso dal punto di vista tecnico ma il vero mistero è il secondo dopodiché in prova l'hanno approvato perché sennò potresti dirmi ma scusami se l'attacco non è chiaro perché questo attacca perché hanno fatto 1500 prove ecco perché rivediamola non dà nessuna preparazione anche lui considera praticamente la prima frase come se fosse un'unica battuta se vogliamo e la seconda frase fatta di tre battute anche questo come se fosse un'unica battuta anche qui se non siete toscanini non fatelo a casa per cui in definitiva che cosa possiamo dire di questo attacco possiamo dire che se sei un grande direttore e hai abbastanza prove puoi fare quasi quello che vuoi puoi anche fare così e l'orchestra attaccherà però soprattutto le prime volte vi assicuro per essermi fatto male io in primis andate puliti con un attacco chiaro 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 e lasciate stare le cose artistiche semmai a più avanti anche all'interno della stessa produzione magari quando è chiarissimo l'attacco potete magari farcirlo con qualcosa di più ecco magari se è il caso spiegandolo questo guardate magari visto che così funziona proviamo a fare un'evoluzione e a cercare di farlo cos'ha e questo magari può funzionare ma fate molta molta attenzione perché con questo attacco rischiate veramente di restare impantanati e capite che soprattutto se è una prima prova con un'orchestra nuova iniziare con un attacco non chiaro e che ha bisogno di essere troppo spiegato vuol dire non cominciare sicuramente la prova e il rapporto con l'orchestra in maniera ottimale scrivete nei commenti cosa ne pensate qual è di quelli che abbiamo visto il vostro attacco preferito e se volete suggerire degli altri attacchi di altri direttori mettetelo nei commenti se il video vi è piaciuto lasciate un like ma soprattutto iscrivetevi al canale cliccando qua sopra non c'è più nessuna giustificazione per seguire i contenuti di questo canale e non essere iscritti per cui iscrivetevi grazie a tutti